Per alcuni correre tutti i giorni sembra un'impresa eccezionale, mentre per altri è una pratica di primaria necessità. L'essere umano si è evoluto grazie anche alla corsa, per questo motivo è opportuno chiedersi se correre è una pratica che possiamo svolgere quotidianamente. Ciao, sono Paolo Capriotti, preparatore atletico professionista specializzato negli sport di resistenza. Chi mi segue sui canali social sa che corro tutti i giorni o quasi. E molto spesso mi viene chiesto se correre tutti i giorni porti a dei benefici o dei miglioramenti oppure possa essere rischioso e controproducente. A mio avviso la domanda che dobbiamo porci è perché correre tutti i giorni? Nella stragrande maggioranza dei casi è per ottenere un miglioramento prestativo, quindi correre più velocemente o correre più a lungo. Oppure in altri casi è per ottenere un miglioramento fisico, come il perdere peso e dimagrire. Ti assicuro che molto spesso per ottenere questi obiettivi, correre tutti i giorni non è la miglior soluzione. A volte è più produttivo sostituire la corsa con altre attività. Detto questo, ci sono runner che amano correre tutti i giorni e atleti avanzati che potrebbero beneficiare da questa frequenza di allenamento. In tal caso, se vogliamo correre tutti i giorni, è necessario padroneggiare un'ottima tecnica di corsa. Se hai dei difetti nella postura e nell'appoggio del piede, correre tutti i giorni non farà altro che guidarti a infortuni e stop ricorrenti. Per correre quotidianamente una buona tecnica non basta, bisogna anche seguire un programma di allenamento efficace tarato sulle nostre possibilità. E soprattutto bisogna ascoltare i segnali del nostro corpo e assecondarli anche con allenamenti di recupero. Ultimo aspetto, ma non meno importante, è quello di avere un corpo preparato, avere una muscolatura forte ed elastica e prevedere esercizi di manutenzione come esercizi di mobilità e massaggio. Prima di svelarti come poter ottenere risultati simili senza dover correre tutti i giorni, se ti sta piacendo questo video ti chiedo di mettere un mi piace e di aiutarmi a condividerlo con i tuoi amici. Inoltre, se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al nostro canale YouTube. Stiamo diventando davvero una bella community e mi farebbe piacere se anche te entrassi a farne parte. Come ti ho detto precedentemente, in alcuni periodi dell'anno e per la preparazione di determinati tipi di gare, mi alleno correndo tutti i giorni. Ma in linea generale, cerco di concedermi almeno un giorno alla settimana di riposo dalla corsa. Lo stesso vale per gli atleti che seguono il percorso di coaching. Quasi mai il menù prevede 7 giorni su 7 di corsa. E questo perché mi sono reso conto che, concedendosi almeno un giorno di riposo dalla corsa a settimana, tendenzialmente si raggiungono risultati migliori. Questo non significa che dobbiamo sostituire la corsa stando davanti alla scrivania o sdraiati sul divano, ma possiamo benissimo sostituirla con un'attività complementare. Ad ogni modo, se ad oggi non sei in grado di rispettare i parametri che ti ho dato precedentemente, ti sconsiglio di correre tutti i giorni. Piuttosto sostituisci uno o più corse con delle attività complementari, come ad esempio allenamenti funzionali, o con altre attività aerobiche, come possono essere il nuoto, la bicicletta, oppure un'attività di trekking in natura. Così facendo, continuerai a mantenere i benefici dell'allenamento quotidiano, evitando però di sovraccaricare muscoli e tendini sempre con gli stessi movimenti. Con questo video spero di aver risposto alla domanda se e quando si può correre tutti i giorni. Per qualsiasi dubbio o domanda scrivimi pure qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!